Sì, sì, con me la vola, se ti mi lascia come che vuoi. Non è tipo 22, non è tipo 22, ma... Perché ho di compiuto 24. Ok, anche perché, no? Anche perché? Ti ha, sì. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.